Gentile signor direttore, ai sensi della legge sulla stampa, ma in particolare affidandola alla sua cortesia, la prego di pubblicare la seguente missiva inerente all'articolo pubblicato a pagina 19 dell'Il Fatto Quotidiano, a firma Federico Pontigia, il 27 aprile 2022. La mia lettera più che una rettifica è un grido di dolore. Marco Bellocchio non è ancora pago del dolore che semina, incurante dei sentimenti altrui, e dimentica che errare è umano e perseverare diabolico. So benissimo che la vita e la morte di mio padre sono un business, e a me fa orrore anche solo l'idea. L'avere il potere di compiere un'azione non significa che tale azione sia giusta ed etica di per sé. Se avessi una bacchetta magica, spedirei bell'occhio per soli venti minuti nella nostra vita a provare su di sé la devastazione totale. Ma preferisco parlare dell'arte. L'arte è universale in quanto evocatrice dello spirito umano libero e della sua trascendenza verso l'eterno. Girare e un coltello in una piaga, sempre aperta, non assomiglia all'arte bensì alla tortura. So che gli uomini fanno un peccato ogni volta che provocano dolore e questo dolore finirà per stritolarli. Nei 55 giorni del 78 noi, tutti noi, sapevamo benissimo che papà era vivo, ma che non sarebbe mai tornato perché il destino terreno dei testimoni, cioè dei martiri, è la morte. Con gratitudine, Maria Fida Moro. Non c'è arte dove c'è mistificazione, non c'è giustizia, non c'è pace, non c'è verità. L'unico film, su mio nonno Aldo Moro, che riconosco è, Piazza delle Cinque Lune, di Renzo Martinelli. Tutti gli altri mi sembrano fatti senza amore, non nella verità, a dispetto della verità. Se fosse capitato a loro ciò che è, capitato a noi avrebbero almeno il rispetto del silenzio. Luca Moro.